L'ex presidente dell'Acragas, Marcello Giavarini, ha aderito alla gara di solidarietà lanciata dalla Fondazione Teatro Pirandello e dal Comune di Agrigento. Giavarini, sempre attento e sensibile anche alle tematiche sociali, ha accolto l'invito dell'assessore alla cultura e allo sport Costantino Giulla e ha deciso di acquistare 100 biglietti in occasione del concetto svoltosi sabato scorso denominato Sicilia per la pace. I biglietti acquistati da Marcello Giavarini, su volontà dello stesso e sul suggerimento dell'assessore comunale Giulla, saranno donati ai soggetti meno ambienti e a un ulteriore messaggio di pace inviato ai cittadini ucraini e russi presenti in città. Gradimento per la rotevole iniziativa, ha espresso quindi il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè, che afferma come ancora una volta Marcello Giavarini ha dimostrato la sua sensibilità come nello sport per la cultura e il sociale. Ne approfittiamo, continua il sindaco per ringraziarlo e tutti i nostri concittadini che si sono impegnati adoperando in ogni modo certi che dimostreranno la loro sensibilità nelle prossime iniziative che saranno organizzate per aiutare i profughi di guerra.